eccoci qua per un nuovo video allora una delle domande più ricorrenti è sempre come valutare un'azione come valuti un'azione quando è il momento di comprarla allora innanzitutto c'è da fare una distinzione tra valore e prezzo il prezzo deriva da un equilibrio tra domanda e offerta tra le aspettative di rialzo e di ribasso da parte del mercato andando ancora più nel profondo da ottimismo e da pessimismo perché alla fine i mercati finanziari sono questo ottimismo e pessimismo mentre invece il valore è la sommatoria di tutti quegli elementi intrinsechi dell'azienda che possono generare ricchezza presente e futura quello che faremo oggi sarà presentarvi quello che è il mio metodo il metodo che ho costruito negli ultimi anni di investimento che è un metodo semplice che tutti noi possiamo applicare in ambito di valutazione di azioni non esiste un metodo giusto o un metodo sbagliato ognuno ha il suo metodo con i suoi parametri ci sono diversi modelli nel corso degli anni hanno sviluppato tantissimi modi per valutare un'azienda e di conseguenza un'azione alcuni più semplici altri più complessi quello che vedremo oggi sarà un modello semplice basato su cinque parametri fondamentali che sono in grado di dare un'idea se l'azienda sia sottovalutata o meno se trovate utile il video mettete un like qui sotto oppure iscrivetevi per rimanere aggiornati nei prossimi video detto ciò direi che possiamo partire Warren Buffett in uno dei suoi racconti dice che la lezione più importante che Benjamin Graham il suo mentore gli diede fu la seguente il prezzo è quello che paghi e il valore è quello che ottieni Ben Graham che tra l'altro nel 1949 scrisse The Intelligent Investor ovvero uno dei libri ancora oggi più letti nel mondo della finanza centrato sul value investing e il tema del libro era proprio questo individuare il valore di un'azione compararlo con il prezzo e andare a comprarla nel momento in cui il valore è inferiore al prezzo e quindi la strategia di Buffett e di Graham era quella di comprare dai pessimisti per poi andare a rivendere agli ottimisti in altre fasi di mercato o per dirlo con le parole di Buffett si avido quando gli altri hanno paura e abbi paura quando gli altri sono avidi poi non è proprio così perché entrambi sia Graham che Buffett ognuno aveva la sua tecnica di vendita una diversa rispetto all'altra ovvero quando vendere un'azione però su questo ci farò un altro video in futuro oggi manteniamo il focus su quello che è il tema principale ovvero come valuto un'azione e quando capisco che è il momento giusto per entrare ora vi presento quello che è il mio modello e ci tengo a sottolineare due cose la prima è che tutto quello che vedremo ovviamente non è un consiglio finanziario ma è semplicemente il mio modello quindi siete liberi di adottarlo o meno e la seconda premessa è che questo modello funziona per le aziende listate in borsa che redigono il bilancio secondo determinati principi contabili aziende non quotate in borsa come possono essere aziende magari in fase di espansione quindi interessanti per i fondi di private equity oppure startup seguono altri modelli di valutazione che potremmo vedere in altri video oggi ci focalizziamo sulla valutazione delle aziende quotate il modello è basato su cinque parametri fondamentali il primo è il price earnings ovvero prezzo su utile per azione si prende il prezzo dell'azione e si prende l'utile per azione l'utile per azione si calcola praticamente dividendo tutti gli utili dell'azienda per il numero delle azioni emesse da parte dell'azienda che cosa ottengo con il price earnings con il price earnings ottengo quanti dollari pago oggi un dollaro di utile di quella determinata azienda ovvero se il rapporto tra il prezzo e gli utili è ad esempio 20 significa che io oggi pago 20 dollari un dollaro di utile di quella determinata azienda oppure si può vedere anche in un altro modo che è quanto tempo l'azienda impiega per ripagare il mio investimento se è 20 significa che l'azienda ripaga il prezzo che ho pagato oggi io per l'azione in 20 anni di utili io preferisco più la prima interpretazione perché la seconda da per scontato diverse cose principalmente due una che gli utili rimangano costanti nel corso del tempo e la seconda che gli utili vengano ridistribuiti quando in realtà sappiamo bene che è l'azienda a decidere se distribuire i dividendi o meno può anche non distribuire i dividendi e quindi di fatto reinvestire gli utili la cosa più importante di questo indice è che deve essere utilizzato come la maggior parte degli altri indici che vedremo oggi come comparable ovvero come metro di paragone tra diverse aziende dello stesso settore ovvero prendiamo un settore prendiamo i piece way delle aziende in quel determinato settore li confrontiamo e capiamo quindi qual è più sottovalutata o sopravvalutata rispetto all'altra facciamo un esempio questa che vedete è Finbits ed è una società che aggrega dati finanziari in particolar modo dati di azioni americane e in questi grafici ci sono i piece way delle diverse aziende raggruppate per settore ad esempio qua potete vedere technology e all'interno di technology poi ci sono i sottosettori internet information providers application software e così via e il piece way ad esempio di facebook è 27.97 quindi significa che noi oggi paghiamo 27,97 dollari un dollaro di utile di facebook non è molto utile il piece way nel confrontare aziende che non operano nello stesso settore perché un'azienda che ad esempio opera nella tecnologia è un'azienda che opera nei servizi o ad esempio nel nel settore metallurgico hanno strutture di costi strutture di personale strutture di marginalità e tante altre cose molto diverse tra loro e quindi ha poco senso confrontare i piece way di settori diversi l'un con l'altro in questa schermata invece non vedete la mappa dei piece way come vedevamo prima ma è una tabella che ci dà un'informazione importante che è il piece way medio di settore ad esempio possiamo vedere che le utilities hanno un 20.50 di piece way un technology un 22.87 di piece way ed è un'informazione importante perché poi andiamo a confrontarla con l'azienda su cui stiamo facendo le nostre analisi andiamo al secondo indicatore il secondo indicatore è il peg price earnings to growth ratio ovvero si prende il piece way che abbiamo calcolato prima e si divide per la percentuale di crescita stimata degli utili aziendali nei prossimi tendenzialmente si utilizzano cinque anni quindi p su e fratto percentuale di crescita degli utili nei prossimi cinque anni questo dato può variare a seconda di dove lo prendete ad esempio su Yahoo Finance rispetto che a Finbits rispetto che a Google Finance perché il denominatore che è la percentuale stimata di crescita degli utili dei prossimi cinque anni è fatta da degli analisti quindi di fatto Google Finance potrebbe prendere una banca una società di investimento come riferimento mentre invece Yahoo Finance potrebbe prenderne un'altra il dato è tanto più affidabile quanti più operatori vengono considerati nella stima degli utili futuri quindi non dovete calcolare nulla voi lo trovate all'interno della piattaforma che utilizzate Finbits o Finance qualsiasi e secondo un investitore molto famoso che si chiama Peter Lynch americano il rapporto ideale dovrebbe essere 1 se il rapporto è al di sotto di 1 significa che l'azione è sottovalutata ovvero significa che il prezzo attuale non sconta la futura crescita di utili se il valore invece è maggiore di 1 l'azione è sopravvalutata e quindi il prezzo sintetizza già quelli che saranno gli utili futuri in scenari di mercato bull ovvero i mercati in forte ascesa non è molto facile trovare indicatori di questo tipo mentre invece i mercati in crisi in recessione come può essere il mercato finanziario in questo momento è più semplice facendo un esempio anche qua prendiamo due aziende dello stesso settore technology facebook e google allora facebook ad esempio ha un peg di 2,22 al momento è sopravvalutata considerando anche che il p su e di facebook è più alto della media del settore mentre quello di google è 1.65 quindi più basso rispetto a quello di facebook ma comunque superiore all'1 quindi il prezzo già sconta oggi parte degli utili futuri possiamo fare un caso anche con le nostre aziende italiane ad esempio questa è unicredit unicredit ha un peg ratio del 3.16 quindi molto alto mentre invece intesa san paolo ha un peg ratio dell'1.19 quindi circa un terzo di quello di unicredit da questa analisi riuscite a fare delle valutazioni su quale azione potrebbe essere più sottovalutata rispetto ad un'altra ora andiamo al terzo parametro che è il ROE return on equity ovvero l'utile netto fratto il capitale netto per chi non conoscesse come è fatto un bilancio il bilancio ha tre parti il conto economico lo stato patrimoniale e la nota integrativa il conto economico è quello che è successo quest'anno ricavi e costi lo stato patrimoniale è la rappresentazione degli averi barra dei debiti dell'azienda e presenta due colonne attività passività e la differenza tra attività e passività è il capitale netto la nota integrativa serve semplicemente a spiegare in maniera qualitativa alcuni aspetti quantitativi affrontati nello stato patrimoniale o nel conto economico perché un determinato numero perché una determinata voce perché una determinata riclassificazione tutto qua quindi il ROE è il reddito netto ovvero l'utile che fa l'azienda da conto economico ricavi meno tutti i costi comprese le tasse l'ultima voce diviso il capitale netto ovvero diviso attività meno passività dell'azienda l'interpretazione di questo indice potrebbe essere rassunta in una frase che è la seguente ovvero quanto bene l'azienda ha utilizzato gli investimenti per generare utili per generare ricchezza non c'è uno standard specifico per il ROE e come negli altri casi come il PISUE va confrontato con il ROE del settore tendenzialmente più è alto il ROE e più l'investitore è contento perché significa che l'azienda è brava a investire i capitali per generare utili come anche negli altri indici il ROE da solo non può essere utilizzato e ci sono diverse motivazioni in particolare il ROE potrebbe essere gonfiato gonfiato perché comunque essendo un rapporto tra reddito netto e capitale netto nel momento in cui ad esempio abbasso il denominatore riduco il denominatore il ROE aumenta per ridurre il denominatore e quindi il capitale netto come dicevamo prima il capitale netto è la differenza tra attività e passività quindi di fatto se in debito l'azienda aumento le passività e il capitale netto si riduce in questa situazione il ROE aumenta ma aumenta in maniera artificiale come potrebbe aumentare in maniera artificiale ad esempio facendo un buyback delle azioni e quindi ancora riducendo il capitale netto. Quindi quello che potremmo fare per essere più sicuri di quel determinato valore di ROE che vediamo è analizzare un trend storico tra i cinque anni di ROE oppure andare ad affiancare a ROE un altro indicatore che è P su B price to book value prezzo dell'azione fratto capitale netto che mette in relazione la valutazione che dà il mercato all'azienda con il valore contabile dell'azienda stessa ovvero abbiamo il prezzo sopra e il valore contabile dell'azione sotto. Quindi quello che possiamo capire da questo indice è che se questo rapporto è maggiore di 1 significa che il prezzo dell'azione è minore rispetto al suo valore contabile. Quindi lo scenario che noi andiamo a cercare riprendendo il ROE del punto 4 è un'azienda con un ROE alto e un P su B minore di 1 in modo che abbiamo la consapevolezza che l'azienda ha una redditività alta quindi è in grado di generare utili e al tempo stesso il valore contabile dell'azienda è addirittura superiore del prezzo di mercato. Quindi in quella situazione possiamo dire che l'azione da un punto di vista value ovvero di valore è sottovalutata. Se ci pensate idealmente P fratto B e il ROE si muovono di pari passo perché gli investitori sono interessati ad aziende ad alta redditività. Essendo interessati ad aziende ad alta redditività il prezzo di quell'azienda sale perché sono disposti a pagare multipli più alti rispetto che al normale e quindi generalmente aziende con ROE alto hanno un P fratto B alto. Aziende con un P fratto B basso hanno un ROE basso. Nel momento in cui troviamo un P fratto B basso e un ROE alto quella è una situazione decisamente interessante. Ad esempio possiamo vedere che Google ha un P su B di 4,38 quindi di fatto il prezzo è 4,38 volte il valore contabile dell'azione mentre Facebook ha un P su B di 5,03. Queste sono azioni che da tempo sono sopravvalutate è praticamente impossibile vederle al di sotto di uno però è importante confrontare i valori di determinate aziende simili come possono essere queste due. Andando sulle nostre per esempio banche italiane invece il P su B è di Unicredit 0,38 mentre invece il P su B di Intesa San Paolo è 0,74. L'ultimo parametro infine è il Debt to Equity Ratio ovvero nel momento in cui l'azienda è comunque brava nel generare gli utili dobbiamo però capire quanto debito effettivamente ha utilizzato per generare gli utili. Per sintetizzare situazione debito si può utilizzare un valore che è il Debt to Equity Ratio ovvero si prendono le passività e si dividono per l'equity, per il capitale netto. In questo modo riusciamo a capire quant'è il livello di leva dell'azienda. Visto che questo parametro ovvero le passività al loro interno hanno debiti di lungo termine che sono tendenzialmente più importanti rispetto a quelli di breve termine per dimensione e quindi impattano molto il risultato. Se vogliamo avere un quadro più sulla situazione medio periodo breve periodo allora possiamo prendere altri valori come ad esempio il Current Ratio e vi metto un link in descrizione per capire come calcolarlo. Comunque sono tutte cose che tendenzialmente trovate già calcolate nei siti che utilizzate come Finance, Yahoo Finance, Google Finance o qualsiasi altro sito Bloomberg utilizzate. Facendo un recap di tutte le informazioni che ci siamo detti possiamo metter giù il seguente schema. Ci interessano aziende il cui P2E è inferiore al P2E di settore. Ci interessano aziende che hanno un Price Earnings to Growth minore di 1. Ci interessano aziende che hanno una redditività maggiore della redditività di settore. Ci interessano aziende che abbiano un P su B inferiore a 1 e ci interessano aziende che abbiano un rapporto di leva ragionevole. Detto ciò questo è un modello che io personalmente ho utilizzato negli ultimi anni e vi dico che riesce a darvi un'idea chiara della situazione. Poi ovviamente si può entrare sempre più nel dettaglio nel momento in cui c'è interesse nell'entrare con una determinata posizione piuttosto che con un'altra. Vi ringrazio molto di aver visto il video e vi chiedo di iscrivervi se vi è piaciuto. Grazie mille, a presto!